Siamo contrari all'opzione zero. Se arrivano idee migliori le valuteremo, ma sul tema non faremo retromarcia. È stato chiaro il sindaco Bucci in consiglio a Genova sul progetto di trasferimento dei depositi chimici da Multedo al Porto. Concetti criticati dalla minoranza durante la discussione di quasi tre ore. L'invito è stato quello a fermarsi, anche di fronte ai pareri negativi giunti finora dagli enti superiori, come ha sollecitato Cristina Lodi, che ha chiesto di attendere la nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale e il piano regolatore, e solo dopo pensare alla delocalizzazione, che tenga conto di tutti gli equilibri. Mattia Crucioli ha anche chiesto se è davvero necessario tenere gli impianti a Genova. La mozione sul tema, presentata da Paolo Gozzi ed emendata, è passata con i soli voti della maggioranza. Sul tema ha parlato anche il presidente della regione, ieri a Castiglione Chiavarese. Ritengo il progetto coraggioso, ha detto, ed utile per la città. C'è un percorso amministrativo da fare, c'è una valutazione di impatto ambientale che farà il Ministero dell'Ambiente. Appunto c'è un percorso autorizzativo che riguarda il Comitato Tecnico di Sicurezza regionale che dovrà esprimersi, quindi giudizi che lascerei ai tecnici, agli esperti, agli ingegneri, agli esperti del settore. Viceversa bisognerà cambiare qualche cosa su richiesta dei tecnici, ovviamente verrà fatto. Sull'opzione zero, la non realizzazione dell'opera, Totti difende Bucci e spiega che in Italia esperienze di questo tipo ce ne sono fin troppe. Opzioni zero sui regassificatori, salvo poi piangere quando si pagano bollette troppo alte. Opzione zero sull'industria, poi piangere quando non ci sono posti di lavoro. Opzione zero sui porti e sulle crociere, salvo poi distruggere l'economia di un paese. Credo che la decrescita felice sia qualche cosa che ci dovremmo lasciare definitivamente alle spalle. Occorre fare le cose con misura, con ponderazione, con grande ascolto, ma anche con capacità di decisione. Grazie. Grazie a tutti.